Una tappa pietre bianche. Andiamo a vedere un po' com'è, va? Kumiana, wet situation. Aio! Per di qua. Igor! Sembravi Igor. Igor! Igor! Iscriviti al canale. ci siamo ok pietre bianche wet situation ok linea 1 e linea 2 qua è dritto per dritto proprio a far scorrere la bici grande stai bello su e guida non troppo freno non troppo freno stai su stai su lasciala un po' andare fai lavorare bene le forcelle vai don't break esatto bravo stai su bello su schiaccia sti talloni vai under control under control under control non troppo freno non va fermare stai su schiaccia i talloni controlla braccia larghe ecco lì grande spingi indietro eh così bravo quella velocità wet situation pietre bianche l'ho già detto yeah io e il mio friends farina doppio zero l'ho già detto l'ho già detto l'ho già detto Così, così, under control controlla yeah non schinare, non andare a deviare a volte per deviare prendi la roba di taglio e poi arrivi te tranquillo, lavora, braccia in gambe, vai su, perché questo conto lo sei fatto? eh 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 ottimo posizione fai passare oi la falla lavorare, falla lavorare eh 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 con le no 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 Ok, ok, ok